Zitti tutti, zitti tutti, parla Alfredo Pedullà. Ovviamente è un modo di dire, lo sappiamo bene, però più che zitti parliamone, commentiamo, perché sul suo canale YouTube, che è aperto da pochi giorni e che sta già facendo tantissimi numeri, al quale vi invito ad iscrivervi e anche andare a vedere il contenuto che Alfredo ha postato su Federico Chiesa, beh, è stato lanciato questo allarme, no? No, titolo poco decifrabile, e cioè Chiesa sul mercato, un titolo che arriva dritto al punto e che ci racconta quelle che sono le strategie di mercato della Juventus e non solo. Sono stupito da questo contenuto di Alfredo? No, anzi, sono combattuto, combattuto per due motivi. Da un lato perché sono piacevolmente rassicurato, possiamo dire così, su tanti piccoli tasselli che avevo parlato, vi avevo elencato anche pochi giorni fa in un video che qui sul canale ho caricato dal titolo Secondo me la Juventus venderà Federico Chiesa, che è andato anche molto bene, per il quale vi ringrazio, e ci sono anche delle valutazioni economiche che confermano quello che avevo detto non solo in quel video, ma da tanto tempo a questa parte. Lo stesso Alfredo arriva a dire ragazzi non ci troveremo d'accordo sulla valutazione, ma un anno della scadenza del contratto, aggiungo io, con queste condizioni fisiche, ovviamente un infortunio che pesa anche tanto sulla carriera di Federico Chiesa, se voi mi parlate di 40 milioni, per me siamo completamente fuori budget e anche 25 potrebbe essere una cifra piuttosto alta. Ecco, io immaginavo tra i 25 e i 30, addirittura Alfredo va ancora più cauto dicendo 25 forse troppo alta. Quindi da quel punto di vista, sì, un bravo nell'aver letto la situazione, Luca, ma la cosa che è, è che mi dispiace. Cioè, il sentimento vero è di dispiacere, perché sì, tutte quelle che erano le mie congetture potrebbero essere, se rivelate, corrette, ma vendere Federico Chiesa per me sarebbe un errore da parte della Juve. Oggi vi ho parlato, vi ho postato proprio qui con un video, vi illustravo quello che poteva essere il nome per la sostituzione di Federico Chiesa, e cioè Greenwood del Manchester United. Lo stesso Alfredo conferma, Chiesa e Sule possono andare via insieme, possono partire tutti e due. Ecco, questo sarebbe un bel problema, ma anche qui, ve lo dicevo, attenzione, perché la Juventus vorrà cercare di fare delle operazioni, anche tante operazioni. L'altro giorno vi ho detto 20, io più ci penso e più credo che 20 siano poche, anzi, sarà necessaria una live insieme con un bel foglio Excel in cui andiamo ad inserire tutti i nomi e cerchiamo di fare anche un pochettino una sorta di calcolo preventivo di quelle che potrebbero essere le operazioni di mercato della Juve. E quindi anch'io non cederei chiese sulle per andare su Greenwood, sono sincero, ma che cosa ci posso fare? Niente. Qualcuno potrà dire, ma come? Sei qui che dici che hai fiducia nella società e poi sei contrario alle operazioni? Ragazzi, la fiducia va anche oltre quelle che sono le preferenze, no? Io vi ho anche tante volte detto che non avrei rinnovato Rabiot, eppure da quanto parla Juventus ci sta almeno pensando al rinnovo di Rabiot. Eppure non lo farei, non l'avrei fatto nemmeno l'anno scorso di un singolo anno, figuriamoci per tante stagioni, per un giocatore che è una classe 95 e che quindi inizia ad andare nella fase dei 30. Mi dispiace per te, Adrian, capisco, dato che un paio di anni fa ci sono passato pure io, non ti preoccupare, poi passa tutto, a parte gli scherzi, ovviamente questa è una sorta di battutina, l'accessione di chiesa diventa un tema, diventa un tema, ma non poteva non essere un tema, eh ragazzi? Cioè già la Juve si è messa avanti con Scesni e gli ha detto, senti vuoi rinnovare al ribasso? Scesni gli ha detto di no. Benissimo, prendiamo Di Gregorio, Di Gregorio il primo, non c'è più spazio, non c'è più posto per te, per il tuo salario, per il tuo stipendio che per noi è eccessivo. Cioè Giuntoli non sta facendo prigionieri qua, eh? E anche qui io sono per tenere Scesni, perché per me un conto è crescere Di Gregorio con Scesni per un anno, dal punto di vista sportivo, un conto è buttare Di Gregorio nella mischia e fargli fare il primo per invice. Per me sono due situazioni completamente diverse, due situazioni con impatti diversi. Eppure la Juve non la vede così, magari solo per un punto di vista economico, magari anche per un discorso sportivo, io questo non lo posso sapere. Non lo posso sapere. Su McKennie, anche lui scadenza 25, cosa si sta facendo? Programmazione su uno scambio. La Juve vuole togliersi di mezzo queste problematiche legate ai giocatori che tra sei mesi potrebbero firmare a parametro zero con una qualsiasi squadra. E chiese uno di questi. Tra l'altro Alfredo ha detto che non gli risulta una soluzione ponte, di cui avevamo parlato anche nelle settimane precedenti, dato che era venuto fuori l'argomento su altri organi di informazione. E io qui sono sempre stato un po' scettico della serie, ma alla Juve conviene? Alla Juve sì, ma a Chiesa conviene un rinnovo ponte di un anno? Ma forse poco. Alfredo ne fa anche una questione sportiva, e cioè gli esterni di Tiago Motta devono rientrare tanto in fase difensiva, e che è assolutamente vero perché il Bologna di Tiago Motta ha difeso spesso e volentieri a blocco basso nella passata stagione. Ma io ne faccio proprio un discorso di programmazione, un discorso meramente menageriale, aziendale, quanto più sportivo, perché se scorro la rosa ai giocatori della Juve, Chiesa per me è uno dei più forti. Paravamo anche stamattina in chiave nazionale, Chiesa è uno dei più forti della nazionale. E anche per la Juve Chiesa è uno dei più forti. E il mio è un motto abbastanza vecchiotto, cioè io i giocatori forti li terrei. Ho iniziato anche con questo mantra, il mercato estivo 2024-2025, dicendovi per me uno tra Chiesa e Bremer lascerà la Juve. Ecco, questo pensiero si sta evolvendo man mano che passa il tempo, e cioè Tiago Motta vorrà tenere Bremer e la Juve cederà Chiesa. Poi magari partiranno entrambi perché arriverà una super offerta per Bremer irrinunciabile e sarà quasi impossibile dire no grazie. Però questa è un po' la lettura. Tra l'altro Alfredo parla di Ramadani, che è l'agente di Chiesa, che a breve sarà a colloquio anche con i dirigenti della Juventus, con la Juve che ha ufficialmente già informato la gente che è il giocatore sul mercato. Ecco, si parla di Roma, sì, se ne era già parlato, ma nella fattispecie si è parlato di Napoli. È ovvio che l'arrivo di Antonio Conte a Napoli fa saltare i conti, il banco in generale della Serie A, perché non prendiamoci in giro, perché io già la settimana scorsa ho letto persone che mi dicevano, ma che cosa ci va a fare Chiesa a Napoli? È un downgrade per la sua carriera. Attenzione, magari Chiesa vorrebbe rimanere alla Juve. Cioè non c'è data a sapere questa cosa. Magari Chiesa vuole rimanere alla Juve. Però la Juve non è intenzionata a trattenerlo, a maggior ragione con il contratto in scadenza, e se Chiesa non risponde a quelle che sono le esigenze economiche che la Juventus gli ha presentato sul piatto, magari la Juventus gli ha detto rinnoviamo per più di un anno a Ponte come era più. E Chiesa magari gli ha detto no, voglio di più, non lo so. Io questo non ne ho idea, perché per me Chiesa vorrebbe rimanere alla Juve, ma nel momento in cui la Juve poi gli dice guarda Federico, sai che cosa? Questo, questo e quell'altro? E gli va a bussare Antonio Conte, neo allenatore del Napoli, che gli dice, senti sai che cosa facciamo? Il mio progetto lo vado a dedicare a te, Federico Chiesa. Cioè, in quel caso per Federico Chiesa non è un passo indietro, la legge di carriera. Non può esserlo, non perché il Napoli sia meglio della Juve, non vi sto dicendo questo. Però voglio focalizzare la vostra attenzione su un rapporto, magari con Tiago Motta, che può essere quello di un giocatore importante, sì, ma all'interno della Juve, bene o male, equivalente a quello che può essere Bremer, a quello che può essere Vlaovic, a quello che può essere Rabiot, proprio in termini di importanza sul campo dei giocatori. Non sei la stella, sei uno delle stelle. Federico Chiesa, in una grande squadra queste cose devono essere per forza vere. Un conto è, sei uno dei grandi acquisti, se non il grande acquisto della campagna, della prima campagna di Antonio Conte al Napoli. Quella è tutta un'altra storia. Quello diventa affascinante per tanti calciatori, eh. Ragazzi, è inutile nasconderci tra un dito il fascino di una roba del genere, essere il centro del progetto di Conte al Napoli. Secondo me può stuzzicare, uso questo termine, non poco, non solo Federico Chiesa, ma anche tanti altri calciatori che potrebbero ricevere la stessa proposta. Poi io non so se Napoli ha intenzione di ceder Ozymenek, Vare, sostituirli con Chiesa, Lukaku, forse ancora un po' troppo presto. Sicuramente a Napoli ha le idee chiare, io non lo so, non ho idea di come si stiano muovendo a Napoli, però nel momento in cui la Juventus si dice Federico, stiamo a guardarci un po' intorno, perché se quella chiamata arriva, allora può essere che Federico Chiesa risponda alla grande, può rispondere alla grande, perché è una situazione che sicuramente fa piacere a un calciatore che in questo momento non credo, e anche Alfredo conferma questa cosa, possa avere delle offerte dall'estero. Poi un conto secondo me è cedere in Italia un conto è cedere all'estero, cioè se la Juve cede Chiesa al Napoli davvero e lo fa delle cifre relativamente basse come quelle che abbiamo detto in apertura, non so quanto sia una mossa di mercato condivisibile, una mossa di mercato efficace, utilizzate voi il termine tecnico per descriverla, non può esserlo, almeno nella mia lettura, nella mia valutazione non può esserlo, conto se lo cedi all'estero, mercato inflazionato, tanti milioni, bla bla bla, però si è parlato anche di Di Lorenzo, sappiamo che c'è un po' di Di Lorenzo, quanto più tra Di Lorenzo e il Napoli, con Conte che potrebbe fare da pacere in questa discussione. Si è parlato anche di possibilità di inserire Di Lorenzo nella trattativa, magari anche trattative separate secondo Alfredo, però la possibilità poi di vedere Chiesa in azzurro e Di Lorenzo in bianco nero diventa concreta, dato che la Juve cerca un terzino, sappiamo, ne abbiamo parlato tanto e Conte apprezza Chiesa e non poco, con anche un retroscena lato Inter, Conte Inter, sempre secondo più di là, quindi molto interessante anche questo, quindi un amore sbocciato tanto tempo fa, possiamo definirlo così. Eh, se lato Roma nero fatto più una risata, e ve lo ricorderete che qualche mese fa quando si era iniziato a parlare di Chiesa, contatti con De Rossi, chiamati con De Rossi Conte, a maggior ragione, se dovranno poi esserci sul serio concretamente delle uscite importanti dal punto di vista economico, come quella di Ozyman, che porterebbe oltre 100 milioni nelle casse azzurre, avrebbe problemi il Napoli, può investirne 25-30 se la valutazione è quella. L'altro giorno leggevamo, sì, la Juve Chiesa lo cede ma solo a 40, e io dicevo boh, se è un anno dalla scadenza del contratto e fisicamente così la Juve riesce a cedere Chiesa a 40 milioni in Italia, allora dico anche ci sto, capisco, ha senso. Quello che vi dico è se lo cediamo davvero a quella cifra lì o incastrando Di Lorenzo come contropartita con un'epedina che poi va a portare, non lo so, 5-10 milioni nelle casse, mi terrebbe lontano da questa trattega per quanto consideri Di Lorenzo comunque un acquisto potenzialmente utile. E non è questo il punto. Il punto è perdere Federico Chiesa, che secondo me non è mai cosa buona e giusta, ha maggior ragione in una Juve che ha bisogno di giocatori forti. Poi so che per tanti Chiese è soltanto un sopravvalutato, un giocatore non utile, un giocatore da cedere il prima possibile, è quello che volete, però poi la domanda mi sorge spontanea. Uno come Antonio Conte che arriva a Napoli e fa quel nome per primo, forse non è proprio così sprovveduto e anzi hanno usato la possibilità di fare un'operazione di un certo tipo, di una certa importanza con De Laurentiis che potrebbe accontentarlo anche dato appunto delle condizioni economiche abbastanza vantaggiose, togliendosi anche un peso come quello di Lorenzo perché è diventato un peso, tant'è che il Napoli ha dovuto fare un comunicato dicendo che Di Lorenzo non è sul mercato. Quindi non so se anche mi piacerebbe aiutare il Napoli a questo punto di vista, l'anno scorso Giuntoli era stato bloccato fino a luglio, invece quest'anno Mann è stato liberato, con grande professionalità, forse dobbiamo anche imparare anche noi a essere un pochettino antipatici da quel punto di vista. Poi Juventus e Napoli tra Giuntoli, Mann, Pompilio, Sarri, Conte, Higuain, forse Chiesa di Lorenzo, negli ultimi anni ci sono stati tanti cambi di casacca tra questi club e sicuramente non sono destinati a fermarsi. La notizia di oggi di Pedullà è una notizia che conferma le mie preoccupazioni e ne aggiunge, ne aggiunge per discorsi relativi all'esborso economico e all'accessione interna, soprattutto perché quando Antonio Conte fa dei nomi, solitamente poi i presidenti vanno ad accontentarlo, proprio perché il rapporto in una nuova società per Antonio Conte nasce dal presupposto che serva a creare la squadra per Antonio Conte. Quindi se il nome di Chiesa è stato cerchiato sul taccuino di Conte, per me molto probabilmente lo vedremo con la maglia del Napoli. Voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, fate un passaggio sul canale di Alfredo e andatevi a ascoltare anche il suo contenuto e tutti quegli altri, noi ci vediamo con un nuovo video in cui secondo me saremo destinati a parlare ancora a lungo di Federico Chiesa, non tanto in chiave nazionale quanto in chiave mercato. Ciao!